Il commercio rappresenta un settore strategico sul piano economico e sociale che evolve rapidamente e in linea con le esigenze di consumatori sempre più esigenti ed evoluti. Occorre dunque tener conto dei cambiamenti e dotare il settore di un'adeguata regolamentazione avendo una visione di sviluppo senza abbandonarlo al caso o peggio alla speculazione. E quanto sostiene Confcommercio Calabria che questa mattina ha organizzato alla messia terme un incontro con i candidati presidente alle elezioni regionali in Calabria. Presenti Roberto Occhiuto e Luigi De Magistris assente Oliverio mentre domani tocca ad Amalia Bruni. Ringrazio i candidati che sono in questa giornata qui presso l'Unione Camera e Confcommercio Calabria, hanno ascoltato le nostre proposte con metà dei consiglieri in presenza a motivo Covid e l'altro in videoconferenza e con l'adeletto che noi abbiamo fatto. La prima cosa che noi abbiamo chiesto è che la politica deve avere i prossimi governatori deve avere coraggio, trasparenza, ascolto e dare buoni esempi. Da qui in realtà noi abbiamo preso, fatto uno studio, preso dieci punti, di questi dieci punti che sono le negatività della nostra Calabria e l'abbiamo rese perché la sfida è questa, la sfida dei dirigenti di Confcommercio, degli imprenditori, quegli imprenditori veri e che dalla parte negativa arriva il successo. E in questo senso il PNRR rappresenta uno strumento importantissimo per la nostra regione e per tutte quelle del sud. Tante le proposte messe in campo da Confcommercio, dalle pari opportunità alla formazione, passando per la digitalizzazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione. Questi dieci punti che abbiamo analizzato, che sono la negatività della Calabria, sono dieci punti che stanno tutti nel PNRR. Gli abbiamo indicato la pagina dove sono i finanziamenti da poter attuare. A questo sono state le nostre proposte, poi abbiamo le solite nostre da sempre. Abbiamo un testo unico del turismo che ancora non c'è da anni e un testo unico del commercio che è da 22 anni inesistente.